Tutto pronto ad Arezzo per la festa di fine anno. Gli aretini potranno dire addio al 2016 e salutare il 2017 nella cornice del Parco del Prato con un cenone, brindisi ed ovviamente musica ed intrattenimento. Una bellissima festa, una festa di coesione perché abbiamo dimostrato che questa città sta tutta insieme e tutta insieme programma e progetta una bellissima iniziativa che è la festa al Prato del 31 notte, del 31 sera. Tra l'altro con attenzione a tutte le fasce di età, si va dai bambini fino alle persone meno giovani perché è la festa di capodanno della città di Arezzo. I festeggiamenti della mezzanotte con il brindisi e il panettone di buon anno saranno affidati al maestro Enzo Scartoni con il suo music show e il volo di 3.000 palloncini dorati. Penso sia il quinto anno che siamo per l'ultimo dell'anno presenti qui ad Arezzo sono contento anche quest'anno di dare il mio contributo di Andrea alle persone che verranno penso si divertiranno come sempre. Allora dopo le lanterne degli anni passati, anche per far partecipare più persone all'evento saranno distribuiti dalle 23.000 palloni color oro con la scritta buon anno ognuno che entrerà al prato avrà la possibilità di gestire il proprio palloncino per poi con il countdown generale alla mezzanotte farli volare tutti insieme per uno spettacolo incredibile. Dopo i festeggiamenti spazio all'ospite più atteso Busta il tesserista dei Subsonica con il suo DJ set tra elettronica, indie e pop tutto da ballare. Il gran finale dopo il brindisi con Busta dei Subsonica con il suo DJ set a far ballare e divertire tutto il pubblico. Ingresso gratuito a tutto l'evento e quindi ci aspettiamo tante persone su al prato per festeggiare insieme un cartellone di assoluto rispetto per un evento per la città.